Ciao creatura, io sono Eka Desplendente e benvenuta, bentornata, nel regno di... Niente, anche se la tengo così, la mano diventa super luminosa, purtroppo questa è la videocamera che regge da nove anni, quindi teniamocela buona. Allora, nuovo haul di Edelmergato con questo make-up, perché ci stiamo avvicinando ad Halloween, quindi tra l'altro vedrai in base a quando ho girato i video, cioè in base al make-up che ho nel video, sai quando ho girato quei video? Sai più o meno che sono stati, perché ci sono, tipo, mi sono accorta nel mio canale due video che hanno sempre lo stesso make-up, però sono magari, li metto uno a una settimana, uno a un'altra, perché questa sequenza di Halloween l'ho deciso già da tanto, anche se non avevo previsto di riuscire a partecipare a tutti questi mercati. E in più mi sono accorta che ho man mano avuto anche altre idee di video e quindi adesso mi ritrovo a scegliere tra... cioè ho scritto più video che tempo in cui usciranno, perché il mese di Halloween è quello, tre video a settimana sono quelli, tranne quelli del gameplay che sono stati un casino perché non so neanche se usciranno. Perché ho avuto il problema dei lavori dei vicini, il problema che il computer mi dava errore durante i videogiochi e quindi adesso io non so nel futuro se sia uscito, siano usciti i video o no, non lo so. Comunque, questo clown un po' aesthetic mi piace molto, alla fine avevo fatto senza il nasino, poi adesso facciamo anche il naso rosso, da quel tocco creepy secondo me è molto spooky, mi piace. Vabbè, visto che siamo nel periodo, io in realtà me li farei comunque nei video dei trucchi, dei make up strani, però visto che siamo nel periodo ho pensato ma se facciamo dei make up un po' horror, ecco. Allora, in teoria questo dovrebbe essere l'ultimo haul del mercato perché mi sono accorta che compra, 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 adesso mi sono ripeto l'armadio quindi un po' di robe le ho messe vecchie, che non mi andavano più, le ho messe su Vinted. Il Vinted è di mia sorella e se volete vi lascio il link in descrizione, andate a vedere anche perché prossimamente appena ci siamo organizzati abbiamo un progetto, quindi magari seguite anche solo per dare interazione al Vinted così magari qualcuno acquista poi. Io penso che, non lo so, volevo aprire anche io Vinted per fare delle mystery pack, mystery box di vestiti, scegliete la taglia tipo M e vi mettono su D-shirt M e avete un sacco di roba. Adesso vediamo, insomma, è un'idea, devo un attimo vedere, sistemarmi l'armadio e capire che cosa non mi va più bene, più che altro perché ho anche una roba vecchia che magari sono ingrassata, che sì sono ingrassata ma prima ero sottopeso, adesso sono normopeso perché qualcuno è stato così carino da venire a tenere ingrassiata come un'offesa. In realtà ero ingrassata appunto di proposito perché prima ero sottopeso, adesso sono normopeso, infatti ho le tette che prima non avevo, prima avevo un corpo androgino, adesso sono un corpo femminile normale, che comunque ho ancora le gambe a insetto stecco, ma vabbè, perché appunto sì, sono ingrassata, sì mi vedi più grassa di prima, tra virgolette più grassa, ma in realtà adesso sono normopeso perché dai video non si vede, ma io sono 1,73 m, ecco. Quindi sono proporzionata alla fine, e vabbè, non so, non sto polemizzando anche perché appunto la persona che era venuta per offendermi e dirmi che ero ingrassata, io non mi sono offesa perché è vero, l'ho fatto di proposito, ma era prima che non andava bene, non adesso, ok? Benissimo, è stato successo su Instagram, quindi non troverai commento qui su YouTube, ecco, quindi non puoi, non hai potuto difendermi per questo, perché io so che ogni volta che qualcuno mi, succede raramente, ma quando scrivono qualcosa di, le mie creature vengono sempre a difendermi, io vi amo. Allora, appunto, ho l'armadio un po' pieno di roba, anche perché attualmente sono ancora qui, segregata, perché devono ancora finire le scale, mi sembra la villona di Carlita, Carlita Dolce è presente, perché sono anni che dice che stanno costruendo sta villa, io quale mi sento così, no? Ancora queste scale, perché hanno tipo litigato con quelli che dovevano fare le scale, perché hanno, avevano detto un prezzo, e poi hanno perché stiamo sistemando quella casa lì e quella in parte che sarebbe dei cugini di mio padre, quindi hanno fatto tutto insieme, perché sono uguali, e li hanno fatti uguali con gli stessi operai, no? E, eh, cosa è successo? Che, ehm, hanno diti caso, perché quelli delle scale voleva fare come voleva lui, e fare trufarci, tipo, allora è stato mandato via, ehm, solo che adesso stiamo cercando chi finisce le scale, boh, quindi sono ancora in questa camera, e non voglio riempire la camera di oggetti, perché non... non voglio, giustamente, perché... voglio esistere, cioè, oggi stanno gli oggetti, oggi sto io, eh, motivo per il quale non ho comprato nulla, neanche avrei voluto fare dello shopping compulsivo di Halloween, ma mi sono trattenuto, ho detto, aspetta, ecco a te, quando avrai la tua casa, ok, ma adesso dobbiamo un attimo ridimensionarci con gli acquisti, e, perché attualmente ho mezzo armaggio di un bambino, di quando eravamo piccoli, mia sorella ho mezzo armaggio, quindi, figurati quante cose, tantissime cose ci stanno, niente, non ci sta, e quindi, fly down, adesso, anche con gli acquisti del mercato, al mercato ci tornerò, comunque, prima di Natale, perché ho già visto il regalo di Natale che voglio fare a mio papà, e... c'è questa bancarella con le scarpe a 12 euro, e sono veramente belle, come piacciono a mio padre, e voglio prendergli quelle, però adesso hanno ancora quelle estive, quindi sto aspettando che arrivino invernali, perché il paio che ti avevo fatto vedere nell'altro video mi piaceva, però c'era solo 40, e quindi aspetto che ne tornino fatte così, di finta pelle, diciamo, a numero 41, e quindi aspetto un po', perché questo, meno detto, è un periodo un po' di transizione, perché non c'è né caldo né freddo, e allora, la roba non è, non c'è ancora, roba del tutto invernale, né quella estiva ancora c'è, quindi, capito, fine ottobre, potremo andare a vedere inizio novembre, e magari se trovo anche degli altri regalini per familiari, allora magari facciamo il giro insieme, e sicuramente avranno messo cose molto più invernali, e anche cose natalizie, anche se il mio maglione rosso ce l'ho, e poi ho trovato questa, in questo mercato qui, una camicia natalizia, allora questo video si chiamerà Io e la mia ossessione, perché cosa ho comprato? Solo camicie, anche quello, non c'era nessuno a fermarmi, e quindi anche per quello non voglio più, per un periodo, non andarci, perché troppe camicie, io potrei aprire un negozio vintage di camicie, certo, ma io non riuscirei a separarmene, anche se devo dire che ne dovrò probabilmente buttare una, che a me piace tantissimo, che è stata rovinata in lavatrice, non diciamo da chi, che avevo lavato a mano, ma poi, oh, non si sa come, è finita la lavatrice, e quindi è stata rovinata, io oggi volevo fare un sacco di outfit, super estetiche, non potrò più metterla, anche se forse è recuperabile, non lo so, lo vedremo in un video di novembre, perché non rientra nei video di ottobre, quel video lì, quello di faremo i video outfit a novembre, da quello che ho capito, perché ho seguito la scaletta degli eventi, e vabbè, però sarai tu a aiutarmi in questa impresa, per capire se possiamo recuperare certe cose o no, così decidiamo insieme, e facciamo insieme il decluttering del mio armadio, e tutto dipenderà da te, dai tuoi commenti, quindi mi raccomando, cerca di restare sveglia, oppure torna a vedere i video, perché ho bisogno del tuo consiglio, basta, non chiacchieriamo oltre, perché il piace si è già tormentato, andiamo agli acquisti, che tanto se già sono camicie, però ho compiuto la mia missione, ho fatto anche i video, e poi c'era di nuovo, ho ritrovato la bancarella, uno dovevo editare, lo so che adesso, prima mi sto criticando, adesso volete che torni a sbagliare, no no, ormai torna tutta d'un pezzo, non può sbagliare, si sente rumori strani che fuori piove, e faccio fuori piove, perché ho la finestra lì, allora, ho ritrovato la bancarella, con le borse, ti ricordi che avevo perso il video, ho fatto il video, l'ho caricato subito su Cold Drive, per non perderlo, mamma mia, e adesso lo guardiamo insieme, così commentiamo, ho provato stamattina, prima di pettinarmi, infatti ho dei capelli esplosivi, ho provato anche le camicie che ho acquistato, e sono riuscita a fare il video delle borse, quelle da 3 euro, che mia madre aveva acquistato, perché volevo farti vedere, c'erano meno colori in realtà, perché stavano già avvenendo, però un po' qualcosa sono riuscito a mostrarti in più, mia mamma mi ha chiesto, sei riuscita a fare il video delle borse, mi ha fatto troppo ridere, e le ho mandato sì che ce l'ho fatta, perché sa che l'avevo perso, o quell'altro, e c'era rimasta male anche lei, perché lei ci tiene i video, come ti ho detto già, quelli del mercato, ho detto, bellissimi, io qua te ne faccio vedere così, velocemente, un po', alcuni hanno il cartoncino davanti, quindi cerco quelle, senza la busta, viola, quei disegni viola, bellissimi, blu, c'erano le donne, le vecchiotte che mi fregavano, le porse tutto al naso, io volevo farle vedere, loro, guarda, guarda, mamma mia, non so chi sia quella signora, comunque c'erano tutte nere, fatte così anche, a busta, poi c'erano queste qui, erano, vedi così, non mi piacciono, e questa qua gialla, color senape, scusa, color senape, e poi mi hanno iniziato a buttarmi addosso roba, e ho stoppato il video, a una certa, se vedessi il video con l'audio, forse lo metto su Instagram, quindi se non mi segui, perché alcune cose con l'audio, così le posso mettere su Instagram, mi trovi con una meccata, è splendente, se vuoi andarmi a cercare, se vuoi seguirmi, oppure le storie le puoi vedere anche se non mi segui, quando sono frio, cioè, non obbligo nessuno a seguirmi, ovviamente, e ogni tanto metto delle chicche del mercato, che nei video di ASMR non posso mettere, e infatti i video, questi qua, piccolini, verticali, di solito hanno un brusio del mercato, che non ti dico, devo sempre togliere l'audio, ma non so che cacchio che mi abbiano lanciato, mi è arrivato addosso una roba, e si sente proprio, sul, cioè, ho sentito proprio una botta sul telefono, ho detto, oh, che non mi spaccato il telefono, e l'ho spento, sono andata via, e beh, allora, poi, cosa c'era? Allora, non riesco a capire, aspetta, la prima bancarella era questa qui, ho trovato queste due camicie, che però non sono per me, o meglio, una delle due è per me, però sono indecisa ancora, c'è questa qui e questa qui, adesso vi faccio vedere la figata, e queste, c'erano un sacco di camicie a due euro, c'erano tante, adesso te le mostro, meglio nel dettaglio, vi faccio vedere anche come stanno indossate, allora, lo dico ormai, perché c'erano troppo intorno, se riusciamo, perché io annuncio le cose, poi magari non succedono, se riusciamo, a me e mia sorella piacerebbe modificare le camicie, e poi rivenderle su Vinted, e glielo ho già date due, quella grigia di Jack Jones, e anche l'altra di Jack Jones, quella verde, e le cercavo più oversize, però non le ho trovate, però essendo taglie da uomo, sono comodi, perché se sono larghi a me, sicuramente, che sono 1,73, e sicuramente quelle persone di media altezza, diciamo, sono oversize, quindi per quello, le ho prese, allora questa, in realtà, quella grigia, e nera, l'ho presa per me, e non mi è oversize, è una M da uomo, è marca OVS, OVS, taglia, taglia M, come puoi vedere, però essendo da uomo, mi sta giusto, dopo ti faccio vedere, e dici, vabbè, ma tu una camicia a grigia nera, già l'avevi, sì, effettivamente sì, però non con questo, con questi, con i quadrettoni più grandi, ce l'ho, però questa è il cappuccio, vabbè, dopo ti faccio vedere meglio indossata, quindi è un misto, tra due cose che amo, le camicie, e le felpe, cioè, è come puoi dire di nuovo, una cosa del genere, e vorrei appunto, modificarla, metterci, dipingerla, metterci delle, tappe, e borchie, e così così, decorazioni di questo tipo, farla molto, grunge, punk, metal, anche se l'idea sarebbe quella di, appunto, usarle, un po' come giacche, però, ehm, questa è mista giusta, quindi, sarà, mh, tipo, da utilizzare sopra le t-shirt, in questi periodi qua, in cui, non sai se c'è caldo, se c'è freddo, e magari, quando vado ai concerti, anche, quindi, sono, però sono indecisa, appunto, se tenermela io, o metterla in cantiere, per modificarla, e poi rivenderla, però potrei comunque, farmela per me, e poi rivenderla, perché, poi avreste una cosa, di ecata splendente, però, vabbè, io vorrei mettermi dietro, ehm, la, la toppa, dell'immortal, bellissimo, adesso ti faccio vedere, come mi sta, mi sta come una, una camicia normale, giusta, perché l'A.M. da uomo, ma è sta giusta, e, ehm, perché di manica è perfetta, però c'è il cappuccio, c'è la figata del cappuccio, che è anche imbottito, un po' felpatino, aspetta, eccolo qua il video, mamma mia, che male che si vede, ah no, qua faccio l'A.B.E., aspetta, ah no, eccolo qui, prima me la metto, allora non fate caso ai pantaloni, perché, ecco, i pantaloni da biscotto, che ho adesso addosso, che avevo preso al mercato, e li uso come per stare in casa, comodo, ecco, è bellissima, è bellissima, anche se non mi sta oversize, è bello lo stesso, mi piace l'idea, camicia, più felpa, camicia cappuccio, bellissima, eh, devo fare l'A.B.E. comunque, in ogni video, dove provo le cose, forse sarebbe stato più bello oversize, ma neanche no, perché, se ti va bene, la puoi mettere di più, oppure me la tengo così e basta, adesso, non lo so, sono molto indecisa, magari consigliami qualcosa nei commenti, fammelo sapere, grazie, questa è ancora più bella, sarebbe stato bello trovarla così, per dire, dell'altro colore, sarebbe stato top, questa marca, FSBN, è una taglia L, regular fit, dice, invece l'altro forse è slim fit, mi ricordo, vabbè, e, questa è proprio anni 90, secondo me, bellissima, di quando facevano dei ripulletti nei film, metallari, così, questa è lei, eccola qua, non so perché la qualità video sia così bassa, forse perché c'è brutto tempo, e c'è poca luce, tutto, accendere le luci, quelle artificiali, comunque, guarda com'è fatta, con le moniche diverse, e nere, il cappuccio nero, è bellissimo questa, è modificata, però una figata, secondo me, come una taglie L, bella larga, a me, vabbè, è giusto, cioè, è larga, è giusto, diciamo, per voi sarà sicuramente una, oversize, e, perché, appunto, le dimensioni, del corpo, a meno che non siate alte come me, è, enorme peso, allora, vista giusta, però anche l'idea che ci sia giusta, non è male, è un po', capito, dipende da, come la vuoi indossare, anche perché le cose troppo oversize, troppo, magari le maniche stanno troppo lunghe, e danno fastidio, perlomeno a me, una volta ero così, mi piaceva di più, oversize, e, avere le maniche, che, strisciamo per terra, adesso le trovo, fastidiose, e quindi, preferisco avere le cose che mi stanno giuste, perlomeno, almeno di maniche giuste, non vedo l'ora di iniziare a creare, a modificare queste camicie, dopo ve le mettiamo su Vinted, poi, dopo, non contenta, però, calcolando che all'inizio avevo preso queste cose da vendere, ho detto, vabbè, ma per me non ho comprato nulla, invece poi, non lo so, sono ancora indeciso su quella taglia M, per me, da modificare, così avrei una felpa in più, una felpa, camicia in più da modificare, e, però, ahimè, sono stata costretta, perché quando vedi una cosa bella, cosa fai, la lasci lì, la lasci lì, direi di no, andiamo a vedere, sulla bancarella, cosa c'era, così, ti fai un'idea di quello, che vi sto parlando, allora, trovo queste camicie, di chiavi, a 3 euro, ce ne erano tante, erano proprio nuove, con ancora il cartellino, quindi, ho comprato la, la camicia, usata, a 2 euro, però c'è il cappuccio, e poi a 3 euro, le trovo nuove, che poi, tra l'altro, erano più stirate, in bancarella, che, poi, quando la porto a casa, so, l'indiano, me l'ha tutta, struppicciata, me l'ha tutta, arrufata, per infilare, nella, nella borsina, e, chiavi, taglia L, credo sia, L da donna, perché mi sta giusta, costava, 12 euro, c'è ancora il cartellino, effettivamente, è una L strana, al mercato, non sto capendo più nulla, perché, mi, mi mettono una taglia L, XL, che poi è grande come alcune S, e, questa è una L, ma c'è scritto 41, 42, ma l'L non è 42, è S, 42, no? quindi, sono un po' confusa, quindi, penso sia un L, da donna, e, tu mi dirai, ma, ecco a te, ma, camicie grigie, barra azzurina, perché, è un azzurro, tra il grigio, che non si capisce bene, ma non ne avevi già così, avvicina, che sta provando i tacchi adesso, vabbè, eh, ma non li avevo con le, i disegni natalizi, ecco, ecco, c'è la renna, il babbo natale, il babbo nachele, vedi tu, l'alberello, il fiocco di neve, il candy cane, e basta, ma, cioè, adesso ti faccio vedere, mi sta anche bene, quindi, cioè, allora, io ho già pensato, all'outfit, sicuramente, e, maglioncino rosso, allora, questo sotto, maglioncino rosso sopra, natale, io farò tutto natale, così, dobbiamo decidere sotto, potrebbe esserci una gonna, o anche un pantalone, non lo so, e, ci penseremo, questo sarà un outfit, che penseremo, magari, a fine novembre, e, tanto dopo, quando faremo, il decluttering, dell'armadio, decideremo, cioè, vedremo lì, cosa, possiamo appinarci, che ho già, e se no, andrò, andrò, per forza, tanto ci devo andare per Natale, prima di Natale, a fare un giro al mercato, e lì, guarderemo, se c'è qualcosa, che ci serve, allora, questa è, come al solito, non guardate, i pantaloni, allora, mi sta giusto, perfetto, aspetta che faccio, delle pose stupide, eccomi qua, bene, io sono così, nella vita reale, preparati, ed ha questi dettagli, bellissimi, i bottoncini, mamma mia, è super morbida, adoro, peccato che sia tutta, stropicciata, vabbè, la stirerò, sperando che, ho paura, ho paura adesso, stirare le camicie, comunque, facciate dimenticare idiota, pose idiota, e siamo, e ci portiamo a casa il video, e, comunque sì, no, ho visto un video, su Instagram, dove le tipe, tutti fregano, cioè, ti fanno vedere in postura normale, sono, come me, te, come chiunque, e poi iniziano, si tirano su, la mutanda, e, poi, si tirano, e tengono il respiro, e mettono una gamba davanti, stanno in punta di piedi, spingono il sedere, da un laso, o così, delle modelle, cioè, anche no, allora io, a posto, adesso faccio, queste pose stupide, perché devo contrastare, quelle altre falsità, ho dei problemi mentali, lo sai, se no, non mi seguiresti, ok, perfetto, e anche quest'altra camicia, ce la portiamo a casa, poi, giustamente, perché ti dico, non ho più bisogno di andare al mercato, perché tutto quello che cercavo, l'ho trovato, quindi, dimmi, aspetto la tua risposta, o pensaci un po', ti do qualche secondo, per pensarci, tipo, dico come assieme, dico, pensaci, pensaci, gli faccio domande, poi faccio pensaci, lei fa, la faccia pensierosa, e l'ho trovata, ebbene, sì, l'ho trovata, la camicia bianca, l'ho trovata, adesso, mi raccomando, rovinami anche questa, Gigi, mi raccomando, la, la terror, tipo, come il santo graal, la metteremo, tipo, dentro a una, a una scatola, con un costo trasparente, con un scritto, romper in caso di colloquio, non so, una cosa del genere, ho pensato, al, Dark Academy, che è un, un genere estetico, modo di vestirsi, stile, diciamo, che, la userai tantissimo, qui, però, adesso, fuori di rovinarla, non la stiriamo, la laviamo a mano, con molta tensione, non sudiamoci troppo, che non si sa mai, comunque, è una taglia M, da uomo, infatti, non è spiancato, ma preferisco, che non sia spiancato, perché, mi sento, me la sento più, eh, mi sento più sicura, invece, quando poi le spiancate, mi sento un po', come una mortadella, un po', come un salame, taglia M, la marca è, Balmain, Balmain, non so, Paris, boh, vabbè, comunque, ci sono già, dei miei capelli, è già mia, è bella, è un po', ricamata, come, non ha macchie, gialle, né di altro tipo, perché spesso, ho trovato, camicie, eh, bianche, con, non le ho comprate, a volte, per la taglia, altre volte, perché avevano delle macchie, che poi non sapevo se a casa, sarei riuscita a togliere, perché a volte, nei vestiti, e nei, nelle camicie bianche, basta mettere in acqua calda, con un po' di ammorbidente, o, che ho dei vestiti bianchi, e li ho recuperati così, perché anche se non li metti, ingialliscono, se li metti in una bacinella d'acqua calda, con un po' di ammorbidente, li lasci in ammollo, tornano piatti bianchi, quindi, però non sempre, perché appunto, in realtà, quando compri usato, non sai, quelle macchie, se sono macchie, perché, sia ingiallita, oppure se è stato sboccato, con qualcosa, perché se è stato sboccato, con l'olio, ciao, ciao, però, appunto, se sono le macchie, dei capi bianchi, si risolve così, quelle tipo, non so, di sudore, o anche che, non utilizzi, restano in armadio, e questa non le ha, e è da Italia, e me l'ho preso subito, e c'ho anche il video, della bancarella, se non sbaglio, dovrei averlo fatto, eccolo qua, eccola qua, già avevano tante camicie, due euro, piccolo, perché non c'era nessuno, quando ho tirato fuori il telefono, sono arrivate le persone, con le loro manacce, a rubarmi le camicie, cazzo, allora, la camicia, eccola qua, mi sta giusta, dopo, la metterò, senz'altro, dentro, ai pantaloni, i pantaloni neri, e, maglioncino nero sopra, semplice, così la volevo, e facciamo un po' di pose stupide, molto bene, e, anche qua, chiuderò, così, la manica, mi sta perfetta, bella, non è neanche troppo trasparente, adesso, la qualità del video, fa un po' cagare, noto, c'ho il ciseno bianco, quindi, direi che, non è, neanche troppo trasparente, cosa ne dici, perfetto, dai, a meno che, non comprerò, una canottierina bianca, da mettere sotto, o no, vabbè, quella la prendiamo, anche, da Marino, fa mercato, perché la canottiera deve essere, di cotone, comunque, a contatto con la pelle, e, e basta, secondo me, come acquisti, come, ultimo, tra virgolette, ultimo, perché, come già, sai, andrò più avanti, ultimo, haul, mercato, tra i un haul, va bene, dai, non, 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 mai direi mai, ecco, e, fammi sapere, appunto, le cose, che ti ho chiesto sempre, se sei ancora sveglia, se sei arrivato fino a qua, creatura, allora, stay tuned, iscriviti al canale, lascia like, condividi, e, soprattutto, attiva la campanellina, per non perderti, i nuovi video, perché mi devi aiutare, col decluttering, adesso mi sono accorta, che effettivamente, con questa, magari non ci sarà sempre, la pioggia a brutto tempo, per la questione video, dove mi provo le cose, la qualità, questa cosa qua, fa schifo, appunto, perché piove, c'era brutto tempo, ho acceso tutte le luci in casa, magari mi procuro una luce, da spararmi in faccia, che magari potrebbe essere questa, per quando mi provo, le cose, mi sembra un buon compromesso, ecco, per aumentare un po', la qualità video, perché l'hada fa di buoni video, ma, non mi sono resa conto, che anche sparando tutte le luci, col brutto tempo, vabbè, prendila per come viene, dai, è andato così, questo video, e, sapendo tutto quello, che è successo, in questa settimana, sono anche riuscito a girarlo, quindi, è già tanto, e, e, vabbè, tra l'altro, tu lo vedrai, tra, tra due settimane, questo video qua, perché, ovviamente, avendo già, mi porto, io mi porto sempre avanti, quei video, li registro, molto prima, per, essere sicura, che ti escano, tranne appunto, quelli della domenica, che ho avuto l'intoppo, però, se non fosse stato per, io di solito, li registro, il lunedì, per la domenica, dopo, ovviamente, e, però, appunto, lunedì, ci sono stati, i vicini, da lunedì in poi, i vicini hanno fatto, dei lavori in casa, quindi, io non ti dico, i rumori, però, vabbè, vabbè, ma tanto, cosa sto a blatterare, tu ti sarai già, addormentata, spero, che questo video, ti abbia fatto rilassare, ti auguro, come sempre, una notte, un relax, ciao, creatura, grazie, Grazie a tutti, grazie. Grazie.